Benvenuti su News per te! Uomini e donne, Mario non ha perso tempo, dopo Ida beccato con... Prima di continuare iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Benvenuti nel nostro video di oggi dove esploreremo le ultime novità su Mario Cusitore, ex partecipante di Uomini e Donne. Mario, noto per il suo percorso turbolento con Ida Platano, è stato recentemente eliminato dal programma. Dejanira Marzano ha rivelato che Mario è stato visto divertirsi a una festa in spiaggia in Campania, poco dopo la sua uscita dallo show. Secondo Marzano, Mario non ha mai smesso di cercare il divertimento, anche durante le registrazioni in studio, mostrando un atteggiamento piuttosto libero. Dopo il suo addio a Ida, Mario è tornato sui social media con un messaggio significativo. È un fallimento solo se non ci hai provato. Attraverso i suoi post, Mario ha espresso il desiderio di ricominciare, segnalando la sua intenzione di non arrendersi e di ripartire da capo. Una curiosità emersa prima della sua uscita dal programma riguarda una segnalazione di Tina Cipollari, che lo avrebbe visto in compagnia di una ragazza spagnola, elegante in taglier nero. Queste vicende sollevano dubbi sulla sincerità del percorso di Mario nel programma, mettendo in luce la sua vita amorosa al di fuori della trasmissione. Continueremo a seguire gli sviluppi su Mario e vi terremo aggiornati su eventuali novità. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per più contenuti come questo. Grazie per averci seguito.